Dopo essersi qualificata al quarto posto nel girone A di Serie B al termine della regular season, il Piacenza Baseball si prepara a scendere nuovamente sul diamante per disputare i play-off. Un'avventura che per i biancorossi si aprirà domani allo stadio De Benedetti di Piacenza, con la doppia sfida alla Palfinger Race di Reggio Emilia, che nella stagione regolare ha spadroneggiato nel girone B. Proprio in virtù del miglior piazzamento in classifica, i reggiani avranno il vantaggio campo con la possibilità di disputare tre incontri su cinque sul diamante di casa. Dopo un campionato ad alti e bassi, i ragazzi di coach Marenghi sono ora chiamati all'impresa. Numeri alla mano, Reggio Emilia è la squadra più forte del campionato, ha dimostrato un livello di gioco per tutta la regular season sopra la media nazionale. Non saranno sicuramente partite facili, però questo può giocare anche a nostro favore, perché noi abbiamo fatto un campionato combattuto, abbiamo giocato partita per partita, abbiamo sofferto, quindi i ragazzi sono abituati a giocare partite difficili. I ragazzi del Piacenza Baseball non hanno mai smesso di allenarsi per tutto il mese. Abbiamo sfruttato questa pausa estiva per recuperare un po' di infortuni che abbiamo subito durante la stagione. La voglia di giocare è tanta, l'entusiasmo è alle stelle. Comunque vada, i playoff li abbiamo conquistati con fatica e sudore, quindi lottate tutte le partite, quindi siamo pronti. Il secondo round tra Piacentini e Reggiani è in programma il primo fine settimana di settembre, questa volta al Caselli di Reggio Emilia.